Siamo con Corradini, l'autore di quello che fa alla fine si è rivelato il gol vittoria, a chi dedichi questa rete? Questa rete la dedico soprattutto ai miei genitori, che non vedo da tanto, perché ormai abito qui, in questo magnifico centro, e per me è stato un gol molto importante da dedicare soprattutto a loro, perché comunque sono quelli che mi vogliono più bene e che mi supportano sempre, quindi questo gol lo dedico a loro. Come hai visto tu la partita? Avete sofferto il gol dell'1-0, poi però siete stati bravi e l'avete ribaltata. Sì, siamo stati bravi subito a riprendere quello che era il dominio sulla partita, perché dopo poco ci hanno fatto un gol, però siamo stati bravi prima con Chris, poi con me a rimettere subito la partita a nostro favore, e poi abbiamo sofferto molto, non dal punto di vista dell'approccio, ma sul punto di vista qualitativo dei passaggi, però tutto sommato abbiamo portato a casa i tre punti e questo è l'importante. Grazie. Grazie a te.